Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, parliamo della scomparsa di Silvio Berlusconi, il primo servizio. Con Silvio Berlusconi se ne va uno dei più grandi comunicatori del nostro tempo. Non entriamo nelle questioni politiche, tanto meno in quelle personali. È indubbio però che oggi se ne va colui a cui dobbiamo l'esistenza delle TV private. Se dobbiamo pensare alla storia di Arezzo, il ricordo più vicino è la sua memorabile telefonata in diretta a TV al neosindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Correva l'anno 2015, la telefonata venne raccolta dal nostro collega Fabio Frabetti. Grazie. 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 E allora sono tanti i messaggi di Cordoglio, primo fra tutti proprio quello del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, abbiamo perso, ha detto uno degli uomini politici più influenti del dopoguerra. Un uomo che ha avuto il coraggio di sostenere le sue idee senza condizionamenti e senza paura anche nei momenti più difficili. Con lui perdiamo uno dei punti di riferimento più certi e sicuri dell'intera compagine di centro-destra. Addio Silvio, che la terra ti sia lieve. I messaggi di Cordoglio anche da Angelo Rossi come segretario regionale del Partito Liberale Italiano, Lucia Tanti e per noi moderati, Fratelli d'Italia, di Arezzo, lo ricorderemo come una delle figure più importanti, decisive e apprezzate della storia politica italiana. Ma i messaggi di Cordoglio arrivano anche dall'altro fronte politico. Maria Elena Boschi di Italia Viva dice ci sarà tempo per l'analisi politica, ora è il momento del Cordoglio, se ne è andato come ha vissuto, combattendo come un leone da protagonista. Un messaggio anche di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in consiglio regionale. Non ho condiviso, ha detto le sue idee e la sua politica, ma è fuori discussione che la sua esperienza abbia fortemente segnato più di una stagione politica e istituzionale. E allora, lo ricordiamo anche in questa intervista con Bernardo Mennini, coordinatore di Forza Italia. E' un dolore vero, umano, per me, diciamo che perché colpisce più questioni, anche un po' l'emozione, anche un po' l'emozione, c'è anche questa. E poi la questione politica, perché lui dal PD ha rappresentato una fase importantissima e rappresenta tutt'oggi, perché l'area politica di Forza Italia è un'area politica reale, vivente e che realmente è qui. Quindi non è che si scioglie tutto, Forza Italia rimane dove è, rimane forte anche dei valori che il presidente Berlusconi ha saputo tracciare fin da subito. Quindi per noi è un dolore vero, un dolore umano, un dolore che io proprio stamani ho pianto, e che è normale, penso che sia così. Al tempo stesso, però, è anche il fatto che oggi dobbiamo dimostrare tutti di essere maturi e ringraziando di quello che ci ha dato, proprio perché sappiamo di avere comunque un bagaglio di valori, di esperienza, anche di capacità, che intendiamo portare nel futuro. Questo è il nostro lavoro di oggi. Un grandissimo comunicatore che ha innovato anche il modo con cui voi politici vi dovete poi rivolgere al pubblico. Assolutamente, assolutamente. Lui ha sempre dato giustamente i consigli di come relazionarsi, per esempio, con i media, come esprimere un messaggio in modo efficace, evitare inutili verbosità e andare dritti all'obiettivo. Non tanto perché lo riduceva in maniera banale, ma perché realmente dovevi essere comprensibile. Il messaggio lui l'ha sempre dato chiaro, ha sempre cercato di trasmettere quello che voleva in modo comprensibile. Questo è il segreto grande, oltre che alle idee, anche la capacità di esprimerlo. Questo è un po' un altro segmento di Berlusconi che fa parte di tutti noi, a prescindere da che stieramento uno si trovi. Berlusconi ha innovato, ha modificato completamente l'approccio con i media, ma non tanto con gli aspetti giornalistici, proprio nell'uscita. E ultimamente è proprio la questione di TikTok. TikTok lo hanno preso in giro in maniera incredibile, ma realmente ha vinto lui. Ha vinto lui perché su TikTok ha fatto, non mi ricordo quanti milioni di follower, ha spostato elettoralmente perché è riuscito ad arrivare a un elettorato che non sarebbe stato mai raggiunto. Ha avuto anche lì, pur a 86 anni con difficoltà fisiche, l'intuizione. Era un genio, un genio assoluto. Lo riconosciamo, lo dobbiamo riconoscere un po' tutti. Fa parte, è un patrimonio dell'Italia Berlusconi. Oggi davvero è questo. Oggi lo piangiamo perché non c'è più, ma lo dobbiamo valorizzare perché quello che lui ha lasciato è totalmente attuale. E quindi credo che Berlusconi lo dobbiamo ringraziare e oggi salutare con affetto e con vera, vera stima. E adesso siamo alla cronaca. Ci sarebbe una lite tra ventenni dietro all'episodio che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi al quartiere di Porta Santo Spirito a causa dell'utilizzo dello spray al peperoncino. I carabinieri hanno identificato sia il giovane che ha spruzzato, sia un amico che era con lui. Dietro all'episodio, appunto, come dicevamo, che nell'immediato ha destato molta preoccupazione, un diverbio per motivi personali. Nulla a che fare dunque con le questioni legate appunto alla settimana della giostra. E appunto, parlando proprio di giostra, estrazione delle carriere e prove in piazza, siamo davvero nella settimana cruciale. Sarà il quartiere di Porta del Foro ad aprire la 143esima edizione della giostra del Saracino, seguito da Porta Santo Spirito, Porta Santa Andrea e per ultimo Porta Crucifera. Questo l'esito del sorteggio dei pagetti e questo l'ordine con cui i quattro quartieri, sabato 17 giugno, lanceranno la sfida al buratto per aggiudicarsi la lancia d'oro dedicata a Luca Signorelli. Oltre all'estrazione delle carriere, la cerimonia ha visto anche il giuramento dei capitani dei quartieri. Sabato 11 giugno invece sono iniziate le prove dei giostratori che si svolgeranno sino a martedì 13 giugno dalle 20.30 alle 23.30 secondo l'ordine di carriere estratto. Il primo quartiere a scendere sulla lizza è stato Porta del Foro. I giostratori Elia Parzi e Francesco Rossi hanno fatto ottime prove colpendo tre centri e un quattro vicinissimo al 5 per Rossi. Porta Santo Spirito si è subito dimostrato competitivo. Già Maria Scortecce e Elia Cicerchia in quattro tiri hanno totalizzato 20 punti. È stato poi il turno di Porta Sant'Andrea che ha visto il ritorno in piazza grande di Martino Gianni. I suoi giostratori Tommaso Marmorini e Saverio Montini, dopo i primi colpi che li hanno visti andare vicinissima al centro ma colpendo il 2, si sono dimostrati all'altezza colpendo il 5. A chiudere il primo giorno di prove il quartiere di Porta Crucifera, Niccolò Paffetti ha colpito subito il 5 mentre ci sono stati attimi di paura per Lorenzo Vanneschi. Dopo aver colpito il buratto è infatti caduto a terra, per fortuna senza alcuna conseguenza. Il giostratore infatti si è subito ripreso ed è tornato in sella. Io credo che la giostra goda di un'ottima salute, il livello è salito tanto sia per quanto riguardano le performance dei giostratori, hanno tutti una squadra tecnica che li supporta per migliorarsi, ma è cresciuta tanto anche la consapevolezza che questa giostra del Saracino ci rappresenta tutti. L'immagine della tribuna di questa sera è appunto esplicativa, è domenica sera, c'è un tempo incerto ma gli aretini sono venuti tutti in piazza grande a vedere i propri giostratori come esordiscono in questa prima sessione di prove. Io credo che la giostra gode di un'ottima salute, un grande attaccamento da parte della città, è un esempio di identità e del DNA che abbiamo dentro. Noi siamo appassionati di giostra del Saracino e è un privilegio essere qui questa sera. Mercoledì 14 giugno infine a partire dalle 21.30 la novità di questa edizione, la simulazione di gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il buratto con un unico tiro con la giuria che misurerà il punteggio proprio come in giostra, sempre secondo l'ordine di carriera estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri a seguire i giostratori titolari. Quattro persone sono state denunciate, multate e c'è stata anche la sospensione di un'attività in un'azienda. Questo è il bilancio dei recenti controlli nei cantieri da parte dei carabinieri di Arezzo nell'ambito della campagna avviata fin dall'inizio dell'anno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In un caso è stata riscontrata la mancanza dell'esibuzione di un particolare documento, omettendo di custodirlo in cantieri e metterlo poi a disposizione appunto degli organi di vigilanza. Ancora mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per accertare l'idoneità della mansione specifica e mancata formazione in materia di salute e sicurezza, oltre che l'omessa protezione delle aperture del ponteggio fisso. In un altro caso invece è stato rilevato il mancato utilizzo di adeguate impalcature e ponteggi per evitare la caduta di persone o cose. Entrambe le aziende sono state multate con multe oltre i 4 mila euro. Parliamo ancora di maltempo, ormai davvero questa estate sembra non voler decollare. Per la giornata di domani, martedì 13 giugno, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un altro codice, in questo caso addirittura giallo, proprio per forti piogge e temporali con rischio idrogeologico per tutto il territorio regionale. Rovesci e temporali sono previsti più che altro dal pomeriggio. Parliamo dei monopattini, hanno fatto il loro arrivo in città da circa un mese, è già tempo, se vogliamo, di polemiche ma anche di multe. Nel bel mezzo del marciapiede, come si vede in questa foto, oppure abbandonati a bordo strada, è già polemica ad un solo mese dall'attivazione sull'arrivo in città dei monopattini elettrici a noleggio, a far discutere, soprattutto sui social, i luoghi più o meno idonei dove vengono lasciati dal comune di Arezzo, così un appello al buon senso e al senso civico. L'amministrazione comunale ha già comunque previsto una stretta sui controlli. L'uso del monopattino deve rispettare il codice della strada, quindi le norme che sono previste appunto nel codice della strada e sono quelle come per l'uso della bicicletta. Quindi anche la sosta di questi monopattini al di fuori del centro storico deve essere comunque fermata appunto all'interno delle aree in cui c'è la sosta per il motorino e per le biciclette. Quindi non possono essere lasciate sopra marciapiede o nelle piste ciclabili e sono oggetto appunto di sanzioni da parte della Polizia Municipale. Invece all'interno del centro storico ci sono delle aree in cui è proprio localizzato e identificato con una P in cui è possibile parcheggiare solo all'interno di quell'area appunto che è stata indicata. Quindi per quanto riguarda la sosta era proprio una parte prioritaria del bando quella di avere delle aree regimentate proprio da questo controllo e soprattutto non volevamo come amministrazione trovare le situazioni di disagio e di degrado che poi dopo si vengono a creare. Io ho già parlato con il comandante, ho già riferito quello che è le sanzioni che devono essere eseguite ricordo che ogni monopattino è identificato da un codice che equivale ad una targa ed in più è geolocalizzato e soprattutto al momento dell'uso che ripeto è solo per i maggiorenni e non per i minorenni e soprattutto può essere utilizzato da solo una persona anche in questo caso ho visto che ci sono state delle situazioni che hanno usato in due assolutamente no, il monopattino è per uso singolo quindi parlando con la Polizia Municipale ho già dato le indicazioni e in più si può risalire chi ha preso quel monopattino ovviamente esatto infatti dicevo proprio questo che quando viene utilizzato deve essere innanzitutto uno deve essere registrato attraverso una carta di identità appunto dimostrando che è maggiorenne ed in più deve inquadrare un QR code che praticamente ti sblocca il monopattino e in quel momento viene anche percepito e capito chi è l'utente e quindi in qualsiasi momento qualora ce ne fosse la necessità anche a ritroso quindi su situazioni che sono emerse anche nel passato è possibile identificare chi è stato il trasgressore e chi ha creato poi dopo la situazione di disagio Sulla caduta di un pezzo di una colonna della Pieve c'è l'intervento dei senatori di Fratelli d'Italia Simona Petrucci e Paolo Marcheschi capogruppo al Senato della Commissione Cultura abbiamo appreso scrivono che per la fine di luglio sarà consegnato il progetto esecutivo per il restauro della facciata con successiva pubblicazione del bando di gara ringraziamo scrivono i due senatori il ministro Gennaro San Giuliano per l'impegno rinnovando la nostra costante attenzione al nostro importante patrimonio artistico con i prossimi due servizi andiamo invece a raccontare due manifestazioni che hanno caratterizzato il fine settimana e che hanno avuto davvero un grande successo il primo è Pescaiola da vivere è stato il decimo taglio del nastro per Pescaiola da vivere la grande festa di inizio estate targata Confcommercio i negozi di vicinato per noi sono importantissimi noi ci siamo sempre battuti e cerchiamo di fare anche politiche per far conoscere i negozi di vicinato per far sì che questi possano continuare ad esserci non solo per il servizio per tutta la popolazione ma anche come presidio sociale perché quando si spinge una luce in una strada è chiaro che questo incentiva la micro criminalità per cui arriva il degrado e l'abbandono una serata attesa dai commercianti della zona diventata ormai simbolo per tutto il quartiere abbiamo dei quartieri che sono più frazioni sono quasi micro paesi quindi c'è anche un senso di appartenenza molto spiccato, molto diffuso se pensate che Pescaiola è un quartiere che ha migliaia di abitanti ci sono frazioni che ne hanno molto di meno quindi diventa più una festa di paese che di una strada o di un quartiere e quindi ha un perché ancora maggiore è un luogo dove tanti negozi si sostengono perché la varietà dei settori merceologici è molto rappresentativa e soprattutto è quella che fa sì che diventi anche attrattiva perché si avvicina a questo centro commerciale naturale per poter fare anche degli acquisti oltre che per partecipare a questa festa di questi giorni che davvero è da applauso e ovviamente da ripetere come hanno fatto tra l'altro altri quartieri della città Ad animare gli Alessandro Dalborro via Benedetto Croce il largo primo maggio come sempre musica e intrattenimento ristorazione, laboratori per bimbi ed ovviamente shopping sotto le stelle con i negozi aperti sino a mezzanotte Domenica 11 giugno invece Saione Mob una manifestazione che era stata rinviata per via delle previsioni meteo e allora questa volta è andata bene vediamo Saione è un quartiere in movimento indipendentemente da quello che si sente in giro guarda che grande festa dove la comunità è scesa in piazza sotto questo bentornato, ritornato sole per festeggiare far vivere un quartiere dove appunto alla parte ludica, commerciale, divertente poi esprime anche un significato valoriale perché è scesa in campo anche Oxfam sono scesi in campo quei valori che guardano anche all'altro ai più deboli, ai più fragili quindi Saione non è solo l'essenza il centro commerciale per eccellenza di una parte importante di Arezzo ma con i suoi colori con la tanta diversità che regna tranquillamente in questo quartiere appunto questo quartiere è presente anche per le azioni benefiche le azioni che meritano e fanno bene agli altri è un quartiere moderno un quartiere dal cuore grande siamo molto felici di aver partecipato a questa iniziativa e lo faremo ogni qualvolta ci sarà un'iniziativa perché questo è un bellissimo quartiere che io amo da tanto che profuma di multietnico ma rilascia un profumo eccezionale dove tutti conviviamo tranquillamente e soprattutto creiamo valore perché qui il commercio è vivo e regala emozioni con bei negozi bellissimo e tutti uniti siamo per questo con il prossimo servizio invece andiamo a parlare addirittura della madre di Leonardo da Vinci e Carlo Vecce ad aver presentato ad Arezzo proprio il suo libro dal titolo Il sorriso di Caterina la madre di Leonardo Caterina non era italiana era una ragazza che veniva da lontano da un mondo favoloso noi diremmo dai confini del mondo però questo secondo me è qualcosa che ci fa veramente capire proprio la grandezza di Leonardo aperta al mondo è una grandezza universale Schiava straniera arrivata in Italia su una nave ecco chi era Caterina la madre di Leonardo da Vinci il grande genio del rinascimento è un documento originale scoperto nell'archivio di Stato di Firenze a riscrivere la storia della donna arrivata come schiava in terra fiorentina e liberata con un atto scritto dal notaio Piero da Vinci padre di Leonardo datato 2 novembre 1452 una storia adesso raccontata nella biografia romanzata il sorriso di Caterina di Carlo Vecce è una storia incredibile all'inizio nemmeno io riuscivo a crederci e poi in realtà i documenti mi mi mostravano che era che era tutto vero la storia di una di una ragazza che nasce sulle montagne del Caucaso che nasce libera vive a stretto contatto con la natura e poi a un certo punto a 12-13 anni viene rapita viene portata via ridotta in schiavitù attraversa il Mediterraneo ma non è un viaggio di piacere e precipita nell'Italia del Rinascimento nella grande bellezza dove a un certo punto viene liberata e dalla luce Leonardo da Vinci per l'autore proprio Caterina avrebbe lasciato a Leonardo una grande eredità lo spirito di libertà noi sappiamo possiamo dire con certezza che il piccolo Leonardo ha vissuto i primi dieci anni della sua vita a Vinci nella campagna di Vinci e quindi possiamo dire ha stretto contatto con la madre e a questo punto tutta una serie di cose fondamentali dell'opera di Leonardo come lo spirito di libertà l'amore per la natura la grande bellezza sono cose che derivano dalla madre e nel prossimo servizio invece andiamo a parlare della manifestazione che è stata un po' a metà tra lo sport e la valorizzazione del nostro territorio ovvero Poti a piedi da Villa Severi a Poti tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini è così tornato Poti a piedi l'iniziativa è nata con l'obiettivo di valorizzare e recuperare l'Alpe oltre a sostenere il calcite di Arezzo questa edizione la voglio dedicare a Piero Franchini che è stato con noi fin dal primo passo si può dire quattro anni di Poti a piedi lui ha messo dei premi ha messo gli occhiali per l'ultimo che arrivava giusto per dire che non era una competizione ma un momento di festa e quindi ci manca molto circa 250 le persone che hanno preso parte alla camminata quasi 1000 euro raccolti per il comitato a retino quindi tutto sta crescendo e questo è quello che era il nostro obiettivo fare diventare Poti un punto di riferimento se una volta l'anno diventasse più volte sarebbe ancora meglio mettere in sicurezza quell'area un po' abbandonata qua Poti ancora vengono tante persone o in bicicletta o in moto o a piedi o a cavallo perciò è una zona frequentata e metterla in sicurezza è il minimo che si può fare tante poi le novità di questa quarta edizione dal servizio navetta che ha permesso di tornare comodamente in autobus a Villa Severi senza far fatica alla prima corsa agonistica che ha visto i podisti scalare velocemente gli otto chilometri è un percorso abbastanza difficile è tutto però una cosa bella perché è in mezzo alla natura si passa in mezzo ai boschi sentieri e poi arriviamo alla mitica montagna di Poti come allenamento l'abbiamo fatta anche d'inverno è un bellissimo percorso come ha detto il presidente è un percorso in mezzo alla natura che vale assolutamente la pena di fare tentiamo in qualche modo di farla rivivere noi della podistica correndo e anche piede libero camminando l'organizzazione che organizza appunto la camminata a trasformare l'arrivo in un luogo di festa anche quest'anno infine le note dei recover band ed infine chiudiamo con una notizia di sport che riguarda proprio il podismo l'aretino Filippo Rubechini è campione d'Italia con l'atletica Firenze Marathon l'atleta nato nel 2003 ha gareggiato nel salto in alto a Palermo nella finale Oro nel campionato di società assoluto su pista dove ha conseguito un nono posto con 1.95 metri con cui ha portato il proprio contributo al primo storico successo tricolore della squadra maschile fiorentina la manifestazione ha impegnato anche Chiara Salvagnoni del 2000 che ha centrato un ottimo sesto posto nazionale nel getto del peso con 13.26 metri entrambi gli atleti sono cresciuti proprio nell'alga atletica Arezzo e dalle piste dello stadio Tenti sono appunto riusciti ad affermarsi a questo punto a livello nazionale è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci a livello nazionale